Un tour per la promozione culturale, sociale e sostenibile tra la Valle Caudina Beneventana ed il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Un progetto di conoscenza e promozione dei territori attraverso l'approccio di un osservatore rispettoso del contesto e realmente interessato alla cultura locale. Il tour dei borghi si svolgerà dalla primavera all'autunno del 2022 in un percorso di nove tappe per nove weekend in nove comuni della regione Campania, dalla Valle Caudina Beneventana al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. I nove weekend 2022 si svolgeranno nei comuni di Castel San Lorenzo, Castelnuovo Cilento, Durazzano, Felitto, Gioi, Lustra, Ottati, Piaggine, Sant'Angelo a Fasanella, weekend, passeggiate, concorso, calendario, ma soprattutto esperienze sul territorio per poterlo vivere e conoscere intimamente grazie anche all'attivazione e al coinvolgimento delle comunità costituite da micro imprese artigianali amatori del proprio paese e rievocatori di tradizioni e antichi mestieri, associazioni di giovani che continuano a credere di poter rimanere a vivere nel loro paese. All'interno del progetto ampio di Borghi e Cibo voluto dalla società di consulenza MyFair e dall'associazione per la promozione sociale Parvares viene organizzata una progettualità di promozione dei territori, di quali territori? Dei piccoli comuni, soprattutto dell'entroterra. In particolare la seconda edizione delle passeggiate fotografiche nei Borghi vedrà come attori nove comuni, di cui otto nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e fino a creare un ponte con la Valle Caudina Beneventana dove appunto l'ultimo di questi comuni accoglierà dei visitatori particolari, un target che si va ad individuare in fotoamatori, quindi non fotografi in senso stretto, ma fotoamatori, coloro che amano innanzitutto i Borghi, visitare e andare alla scoperta dei luoghi con rispetto, alla scoperta di cosa, della cultura, della storia, del buon cibo che questi comuni stanno offrendo, mettendosi appunto in prima persona, in prima linea nell'organizzazione di queste passeggiate fotografiche. I Borghi esistono un po' dappertutto, anche nei grandi centri urbani esistono i Borghi paradossalmente, perché il Borghi è un luogo che non è necessariamente abbandonato, ma un luogo comunque isolato, identificato, identificabile, all'interno del quale vi sono dei tracciati di vita vissuta che sono fortemente caratterizzati dal punto di vista storico-culturale. I Borghi sono una grande opportunità, sono il turismo lento, sono il turismo delle radici, sono il turismo dell'accessibilità, sono il turismo sociale, quindi della diversità, quindi sono una grande occasione, una grande occasione che sarà di maestra anche al turismo prevalente, al turismo dei grandi numeri, piccoli numeri che faranno lezioni ai grandi numeri. Nel territorio del Parco Nazionale del Cilento-Albunni ci sono ben 80 comuni, in ognuno degli 80 comuni ci sono pregi, c'è almeno un elemento di pregio straordinario, quindi una biodiversità di fatto, una biodiversità tra comune e comune, basta pensare che anche i dialetti a volte sono diversi tra comuni confinanti, per non parlare del patrimonio ambientale, naturalistico, paesaggistico, culturale, artistico, i nostri borghi, che ognuno ha un'identità diversa dall'altro. Ecco, c'è molto da fotografare nel nostro territorio e c'è molto anche da scoprire, da conoscere, da far conoscere, perché poi la fotografia è anche il mezzo attraverso il quale noi facciamo conoscere un territorio meraviglioso come il nostro, unico parco al mondo ad avere ben quattro riconoscimenti UNESCO, in termini di biodiversità, natura, paesaggio, non siamo secondi a nessuno e con il sostegno anche dell'università che eleva anche la qualità e il livello della formazione, dell'offerta che può venire dai nostri territori.